L'ex volto di uomini e donne, è pronto dunque a sposare il compagno Manuel Pirelli. La loro relazione aveva suscitato tanti commenti sui social, ma oggi i due hanno compiuto un passo che forse nessuno si aspettava. Da quanto è stato pubblicato sui social dai diretti interessati abbiamo ben capito che Manuel ha sorpreso Alex con una splendida e dolce proposta di matrimonio che non si aspettava. Dopo la proposta il giovane ex volto di uomini e donne ha pubblicato sui social un post davvero molto dolce e che non è passato inosservato ai fan del programma e del gossip. Ecco il post di Alex Migliorini, ed eccoci qui con questi scatti che racchiudono questa vacanza magica. Da quando ci siamo conosciuti abbiamo fatto dei passi molto importanti, soprattutto tu che hai stravolto completamente la tua vita e lasciato tutto per trasferirti a Milano per me. Ci siamo innamorati così presto ed il legame tra noi è stato molto forte sin da subito. Mi hai sempre lanciato la battuta del matrimonio, ma io un po' per paura del mio passato ho sempre sviato l'argomento anche perché, lo sai, pensavo che fosse troppo presto. Ho addirittura pensato di non pubblicare nemmeno questi scatti, ma poi mi sono detto, perché devo avere paura del giudizio o del pensiero della gente. È un crimine essere felice? O mostrare la propria felicità. E quindi vi dico che amo follemente questo ragazzo e che me lo voglio sposare. Una dolce proposta che, come potete vedere dal post pubblicato sui social, è stata accompagnata anche dalla scritta ti amo effettuata con le foglie. Se Alex sembra aver dunque trovato il suo compagno di vita, un ex volto della trasmissione Uomini e Donne sembra poter fare ufficialmente il suo ingresso nella casa del grande fratello. Clicca qui per leggere di chi stiamo parlando.